Bella gente, Joel è qui presente e oggi sono qui con questo nuovo video, ma questo è un video su Slender, ma quale Slender? Bene, Slender The Arrival, o The Arrival come lo chiamate, questa qui è una beta acquistabile dal sito di Slender The Arrival Official, vabbè metto il link in descrizione e questo è il suo gameplay, per chi vuole farci un'idea di come sarà, intanto abbassiamo l'audio del gioco, se no non si capisce di niente, aspetta, vabbè, dando la grafica qua al massimo, in full HD, e dove si mette l'audio? Boh, e chi lo sa? Vabbè, non ci voglio parlare il più forte possibile, quindi se volete cominciare, se vogliamo cominciare, incominciamo, va bene, ok, resume, siamo a zero pagine, ovviamente, e quindi resume, resume, un po' lo chiamate bisogno, bisogna trovare le pagine, e c'è Slender come sempre, ma ovviamente, quindi, scusate, che oggi non so tanto bene questo cos'è? Oxide Park has three canons available for render si, abbiamo capito tutto l'abbiamo preso, non so dove se ne mette, boh, nel mutante ah, intanto, dove si va? dove si va? qua? ma lì, se c'è da sotto, c'è da sotto la piccola lasciate l'aperto, perché non si sa mai andiamo da sopra, anche dove c'è se sbaglio c'è una pagina, boh vediamo un po' ah, infatti la, la misteriosa saluta pace no, 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 no occhio, ero, occhio la musica incominciò andiamo dall'altra parte da un'altra parte, non dall'altra parte non corriamo, perché anzi, corriamo, non dove un pulgone che cavolo si fa in mezzo al bosco ah, là sono già andato, giusto? sì lascio l'altro cosa c'è qua? vediamo cosa ci potrebbe essere è un'altra pagina oh, siamo già due pagina su 8 cosa incredibile dove si chiama questa parte? chi lo so oh, ma che cao ma c'è una specie di di come si può chiamare una casa avevo un negozio un negozio occhio vabbè, questo che avete davanti a me è il mio microfono che mi ha prestito il il mio fedele amico con il nome Andrea non faccio il cognome però perché sennò per privacy come ti capisco questa musica devo dire che non mi piace mi inquuota è timore come si dice inquuota vabbè abbiamo capito di tutti questi umori malefici eh, allora cosa ci potrebbe essere da questa parte? degli alberi ma che cavolo rappresentano? no, 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 no non mi piace sto cosa pagina alway vabbè c'è scritto praticamente io non ho gli occhi ma ti guardo lo stesso quindi io direi di darci la gambe, no? se sei d'accordo io sono d'accordo quindi andiamo da questa parte andiamo da giù qui là oh 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 madonna mia madonna andiamo di qua non vuole davvero davvero di qua allora non ti dispiace ma che cavolo già la prima parte della Giambola vuole fare un attacco cardiaco e che dia eh quale strada è stata? vado di qua di là boh andiamo di qua andiamo di qua ragazzi di qua ragazzi a parte il gioco io ma insieme a voi un po' di guardate il video mettiamo da questa parte eh no no di no qui no no vabbè andai dietro lì si chiara al punto di partenza la porca miseria ehi 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 madonna sembra un suono realistico che mi accade dalla sedia troppo qua tagliamo tagliamo quel di qua dove siamo andati dove mi ha fatto ritornare prima quel bampone però questa volta pasca da qui fa paura fa paura oh c'è una zona container se me ne erro vede container container vabbè una zona container diciamo c'è ne sarà la pagina ecco parlando di pagina guarda cazzo che sconda che entrano non puoi correre non puoi secondo me quattro pagine su otto dai ragazzi ci possiamo vincere allora sto rincinando con fratti cosa c'è cosa c'è là una cos'è oh 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 ecco allora lo stupido cinque pagine oh mio dio cinque pagine cinque pagine ragazzi cinque dove stai dove stai ecco valla che cammina che cammina cos'è sta cosa un'altra pagina siamo strani ragazzi siamo sei siamo sei oddio dove 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 è lì oddio cos'è quella tenda si è una tenda si è una tenda ci sarà una pagina speriamo siamo a sette sì iiii v dove cavolo sei DIO MIO DIO MIO diomino non c'è una pagina forse o meno non l'ho pronta a vista non punto a vedere per coppa di quals'ingraziato qua dovrebbe essere la pace dentro l'osmite no oddio ragazzi ragazzi eh ragazzi eh oh cristo avete visto ready game no no ragazzi come avete potuto vedere mi ha preso a sesta pagina porca miseria scusate va bene ci vediamo nel prossimo video con l'altro Slender che dunque non faccio il nome ma lo il nome lo vedrete nel titolo dell'altro video ok quindi bella gente se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace iscrivetevi al mio canale per il futuro di video ovviamente e lascerò poi come ho detto prima il link del sito di di Slender Derrible ok quindi bella gente giurare vi presenti ci vediamo nel prossimo video ok bella ciao 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 ciao